Nella giornata di studio e di confronto organizzata da CIA Toscana nell'auditorium di GEA Green Economy è emersa in tutta evidenza la necessità per valorizzare e tutelare il grande patrimonio boschivo regionale di avere una legge bosco-legno-taglio-bosco che concordata fra ministeri competenti e regioni dia certezze su minori adempimenti burocratici e permetta di lavorare il bosco con regole certe ed eco-sostenibili di conseguenza utilizzare il bosco toscano come risorsa socio-economica e di salvaguardia idrogeologica il tutto per porre rimedio alla contraddizione che vede l'Italia fra i maggiori importatori di legna da ardere legno da lavoro, cippato e biomasse La competenza in materia paesaggistica è sostanzialmente del ministero quindi noi il tentativo che avevamo fatto con questa legge era un tentativo di buonsenso per cercare di portare in evidenza il fatto che laddove esiste un vincolo paesaggistico ma l'oggetto del vincolo non è il bosco si potesse andare in esenzione dell'autorizzazione paesaggistica Noi ci accorgiamo che i nostri boschi sono in abbandono totale e creano emergenze sia dal punto di vista della gestione idrologica del territorio ma anche dal punto di vista del potenziale del potenziale pericolo degli incendi e siamo disponibili a investire risorse e a impiegare aziende sempre di più e a dare opportunità di reddito ma con queste regole sono tutte quante annientate e tutte rischiano di non essere più sostenibili dal punto di vista economico perché tutte le persone che lavorano a un certo punto vogliono portare a casa un reddito grazie 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 grazie